Vanno avanti i casting di Amici 18 e, proprio nella puntata in onda oggi, 2 novembre, a presentarsi al provino dei cantanti è un volto già molto noto. Lui è Alessandro Casillo, che i più giovani sicuramente conosceranno per la sua partecipazione a Iocanto di Gerry Scotti nel 2010. Alessandro, che durante Iocanto era entrato a far parte del gruppo Gimme 5, boy band della trasmissione, emerge poi come solista e, nel 2012 partecipa e vince il festival di Sanremo nella sezione Giovani. Oggi, all'età di 22 anni, Alessandro Casillo si rimette in gioco e lo fa proprio nel talent di Canale 5 come tanti hanno fatto prima di lui. Ad Amici 18, di fronte alla giuria composta da Rudy Zerbi e Alex Britti, che lo riconoscono subito, e Stash dei The Colors, Casillo porta il suo nuovo inedito, che gli garantisce l'accesso al secondo step dei casting. Alessandro Casillo, oggi faccio il braulico. Di fronte alla giuria di canto di Amici 18, Alessandro Casillo spiega però com'è cambiata la sua vita dalla partecipazione a Iocanto sino ad oggi. Io ho fatto tante cose, Sanremo nel 2012, io canto quando ero bambino. Dopo aver vinto Sanremo diciamo che ho deciso di fermarmi, perché avevo tante cose da completare, come gli studi. Spiega Casillo, e poi prosegue, la mia famiglia mi ha sempre fatto capire che fosse comunque importante completare gli studi, prendere un diploma, imparare un mestiere. Riuscirà a conquistare un banco nella scuola di Canale 5? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like